Probabilmente mi limiterò all'inglese, ho canzoni in spagnolo e italiano, e tedesco e altre cose del genere, quindi non so, sai, non lo so, sai, sì. Vorrei solo dire, prima di ogni altra cosa, che è un grande privilegio fare questo programma satellitare e che farò del mio meglio insieme a tutte le persone che lavorano con me per fare un buon programma. Per fare un buon programma, solo puro intrattenimento, niente messaggi, niente di tutto questo, solo cercare di rendere felici le persone per quell'ora in cui viene trasmesso. Se ci riusciamo, sai, penso di aver fatto un lavoro.